Vesto abiti su misura. Vado in piscina due volte a settimana. Socializzo con persone che non sopporto. Sono un tipo pacato. Gradevole. Non mi perdo nell'autocommiserazione. Quello che ho letto è vero. Siamo così abituati a mascherarci dinanzi agli altri che finiamo per mascherarci dinanzi a noi stessi. Fuochino. 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 Sì. Ma... davvero? No, è straordinario. Come... Da cosa lo capisci? Non è facile. Ho visto dei pezzi su cui hai lavorato che avrei giurato fossero autentici. Questo è un vero Queen Handel Connecticat, ma il frontone e i piedi erano danneggiati. Così? I fastigi e i piedi sono stati presi da un altro pezzo. Cioè, questi? Lo senti? Sì. Sì. Wow. E anche... qui. Lo senti? Sì, sì, sì. Cosa stiamo vedendo? Everett, guarda cosa ha fatto Hobie. Oh, non l'ho fatto io, l'ho solo restaurato. Ora non vale granché, ovviamente, ma possiamo trovargli una casa. Oh, che dici, Pippa? Lo prendiamo noi? Ah, è più grande della nostra camera da letto. Mi accompagno questi due a pranzo e poi in aeroporto. Perché non vieni con noi? Oh, no, no, non posso. Devo vedere un cliente, perciò... Sei diventato un vero uomo d'affari. Uno dei due deve esserlo. Va bene, andiamo. Sì, ciao. È stato bellissimo rivederti. Finalmente ci siamo conosciuti, Tio. Se capiti a Londra, puoi stare da noi. Ha esagerato sulle misure di casa, più o meno.